Il congresso regionale DEM, la nazione, via Alto Autonomi, Barnini, prima cittadina di Empoli, si è già autocandidata ma è pronto a scendere in campo anche il collega Biffoni di Prato. Ma lei, diciamo così, guiderà il partito fino al congresso oppure c'è anche lei per guidarlo fino a dopo, regionale? Ma guardi, mi viene un po' da ridere perché stiamo facendo la figura di X Factor a tutti i livelli. A livello nazionale dove è bastato che il segretario dicesse io non mi candido, boom, è partita la sfilza di nomi e sta un po' succedendo così anche a livello regionale. Mi fa un po' sorridere la cosa perché ancora non sappiamo quando ci sarà il congresso. Per cui insomma io invito tutti un po' alla cautela, comunque la direzione decida modalità e tempi del congresso, a quel punto lì ognuno poi capirà che cosa fare. Però ecco se noi anteponiamo sempre i nomi alla proposta insomma poi alla fine i cittadini si rompono le scatole anche perché divoriamo segretari alla velocità della luce.